Questa canzone qui è solo una piccola introduzione musicale, tanti anni fa ormai, penso anche più di una trentina, io e i giovani qui di fianco suonavamo già questo pezzo, probabilmente lui manco se lo ricorda perché è appunto anziano, però è di questa comunque piccola idea di cambiare questo pezzo qui che in realtà ho fatto a lui gli altri è un pochino più semplice musicalmente, ma noi avevamo pensato già ai tempi di trasformarlo in qualcosa di più modern acustico, non so come dire, ed è venuta fuori poi con il loro aiuto a distanza di tanti anni un successivo sviluppo della canzone che adesso risuoniamo. Musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti